Back in ETV Bentornati su Balconi TV Sassar Io sono Laura con noi oggi i mercanti di sogni Ciao ragazzi Buonasera Cosa ascoltiamo? Questo brano si intitola L'essere musicale Benissimo, enjoy the show Esco sempre un giorno di vita Mi rifugio nel mondo aperto Quando esco ogni momento è bello Mi piace perché mi sento vero Perché io voglio conquistarla Anche se non è santa Ma spero che sia sempre tanta E che ci dia la carica Tu che voli nell'aria Perfetta grande stella Quasi quasi ti ho raggiunto Ma tu sei mia e non ti lascio più Tu che sei la storia Ammoni e musica volontà E un angelo che suona Suona Cantaglino alla vittoria E un angelo che suona E non la butto tutta questa gioia, perché io voglio conquistarla, anche se non è santa, ma spero che sia sempre tanta, e che ci dia la carica, se è, che fuoli nell'aria, perfetta grande stella se è, quasi quasi ti ho raggiunto, se è, ma tu sei mia, non ti lascio più, tu che sei la storia, armonia e musica a volontà, è un angelo che suona, suona e canta il vino alla vittoria. Grazie, grazie ragazzi, complimenti. Allora, presentiamoci, diteci un po'. Mercanti di sonni, siamo di Sassari, Angelo Medde alla chitarra solista, Slappo al basso, Alessio Poddige alla batteria Jean Vett, Riccardo Boi alla tastiere, Salvatore Peano alla chitarra e voce. Ehi, ragazzi, ah, è vero, scusa, giustamente, dulcis in fundo. Allora, vi siete formati nel 2009, il vostro motto, tra l'altro, l'ho letto, è dare vita ai vostri sogni, e il vostro sound mix di ska e reggae sicuramente dà decisamente delle buone vibrazioni e la carica, come diceva anche la canzone. Questo pezzo che abbiamo sentito si inserisce all'interno di un progetto futuro? Si, verrà inserito in un progetto futuro, in un album che verrà. Abbiamo in programma due date, la prima il 5 agosto qua a Santa Maria e la seconda il 20 agosto a Bessude. Ok, perfetto. Più gente possibile, vi aspettiamo. Chiaro, assolutamente. Per informarci, tenete d'occhio appunto i progetti futuri e le date, ci date un sito o una pagina? Sì, siamo in tutti i blog, tutti i siti di internet, diciamo. Ok, la pagina Facebook. Pagina Facebook, Instagram, tutto. Ok, rintracciabili, insomma, diciamo. Rintracciabili, sì. Perfetto. Ok. Mi piace. Cioè, assolutamente, ragazzi, mi piace la pagina, seguiamoli, supportiamoli, assolutamente. E volete raccontarci qualcosa del gruppo? No, diciamo che ci suoniamo dal 2009. Eh, sì, sì, sì. Abbiamo fatto 3-4 concerti, quest'anno abbiamo suonato al Reggae Festival. Ok, beh, è un importante palco. Certo, certo. Che, comunque sia, ci ha fatto conoscere questo programma. Bene. Da cosa nasce cosa. Da cosa nasce cosa, giusto. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua con noi. Ancora complimenti. Grazie a voi. Benissimo. È tutto su Balconi TV di Sassari. Io sono Laura, mercanti di sogni. Ciao. 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 Grazie a tutti.